Salve, sono Danione Stilavato per Z Rebugging e ora finalmente le conclusioni della mappolistica. Credevate fosse finita, Mang Pukaz, azzurra spirito. Il rivelo olistico ci è servito soprattutto per evidenziare una visione strategica di miglioramento che da qui ad un anno possa permettere di evidenziare, di valorizzare alcune risorse che al momento rimangono ancora latenti. Per cui andando ad agire su relazioni, prodotti o flussi, la scuola potrà trovare maggiore sostenibilità economica e produrre maggiore valore per se stessa, per il territorio e per la propria comunità.